All'acce abusivi che hanno garantito acqua ed elettricità in una palazzina Ater. Nel mirino anche l'occupazione di una cantina trasformata in appartamento. Forze dell'ordine nuovamente in azione a Torbella Monaca, in via Santarita da Cascia, dopo gli sgomberi del mese scorso che hanno colpito anche appartenenti al clan Moccia. In campo i carabinieri, affiancati dalle unità cinofile e dal personale di Acea, Areti e Ater. Il bilancio dell'operazione è di 30 denunciati, accusati a vario titolo di furto aggravato e di invasione di terreni o edifici. Nel dettaglio i carabinieri hanno scoperto 20 allacce abusivi alla rete idrica, 6 alla rete elettrica, 4 invece le persone alle quali è stata contestata l'occupazione abusiva della cantina. Il personale di Ater e Areti si è messo subito al lavoro per garantire la messa in sicurezza e il ripristino dei locali. Un'operazione in scia, con quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo la linea impostata dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, nel segno di una forte riaffermazione della presenza dello Stato. Grazie.